stava no 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 terror lo voglio accanto a me il banana hold subito porca trova ma quanto ti ci vuole che è con me in alfa terror dove cazzo stai madonna veloce da me stanno busciando attenzione inizia inizia no non lo fanno mi pare ho capito che prendono le botte che stiamo le squadre in figura squadrono che potenzioni server gestisci giocatori buttati a posta no di la mica che c'è tutto tranne vabbè sc sc ci siamo la stluke la stluke entra a scuola la stluke dai che gli eriamo sti feroci ho manca uno squadra allora io e terrore se rimane in alfa a parte america si spawnava in alfa vero cazzo ragazzi non mi ricordo più o in b last di qua devi venire vabbè se spawniamo su b io rimango a cappare b e poi me ne vado sul cazzo allora non posso troppo ridosso dell'ultimo cambio di squadra cambialo si drago ok perfetto allora io non mi ricordo dove si spawna all'inizio meno di merda che continua a cambiare di squadra fallito dai cazzo due anni cazzo minca comunque comunque tanto è più un giorno allora se si spawna in alfa io terrore si rimane in alfa e style copre banana mentre i due dei finocchi vanno su c easy tattia semplice il comando in b invece diverso old style k la b ok e copri il corridoio quello sotto che può van alfa o sennò ti metti a coprire c la stessa cosa tutto il resto si push an alfa come a vecchi tempi va bene semplice il discorso quindi se si spawna b alla diciamo alla flow love si va su alfa tutti insieme spawn alfa ci si divide si 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 push a tutti dipende da come si suona perché ripeto non mi ricordo il cazzo si è poca amica motore no non le va il formico ah lei va si va va be se ne frega allora buttate granate dentro l'ha leggo vai 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 o ne manca una delle qua le manca una è Eh, bisogna fare il gioco Prendiamo un cazzo insieme così Bisogna giocare 4 contro 4 Prendemene va Mamma mia Io mandagli un messaggio Chi è il capo? E gli entri il quinto si calmi Gli entri, gli entri, calmi, calmi Madonna Chi è il capo? Boh Cazzo le dico Qual è quello con cui ti messi? E non me l'ha piatta la sua tag Sinceramente Alla fine l'ho seguito al gruppo Li si chiediamo per il cuore Ah, il suo capo Me lo ricordo, si chiama Martin Brasil Me lo sono ricordato ora Martin Brasil si chiama E qui non lo so C'è quello di cui ci parlo E poi sinceramente non so chi è il capo Ma non so fake Perché parlano in brasiliano No, non è un fake ragazzi No, non sono italiani Non sono italiani ragazzi Sono veramente brasiliani Questo è un fake brasiliano Secondo me Questi qua sono parenti Della ragazza messicana Che ha contato a Toluca Che vogliono i soldi Se mi fanno anche a me Bravo Arrivano a casa di Old Style Lì qui coltellino Deci i soldi Hai messo incinta una ragazza Si è venuta in Italia per scappare No, di fegge No, no No, raccontagli la storia Ma fate Ma sei in live Tutti ti ascoltano No, no, no Lo fò io Lo fò io Tu in culero O mia cugina messichena Lo devo fare io L'uva Ma quanto cazzo entro Stream Che cazzo stream E c'ho i cos Come si ama La scheda acquisizione Registro e poi lo modifio Comunque In Prati Old Style Ha messaggiato Una ragazza Come era Sudameriana Ma era Messicana Di Insomma Convincendola Anviare Un video O una foto Che era una foto Prima all'inizio Era una foto Della sua Bussi Una foto Della sua Bussi In cambio Di 50 euro E lei Gliela manda Però lui dice No, non Non sono convinto Allora gli mando Un video Mentre Mentre si sta scurtando Ma dai Ti manda Dopo l'altra foto Delle dette E i soldi Ovviamente Non li abbiamo visti Vabbè Non si può aspettare Ti parevo E' per quello Che gli rubava La tua madre Madonna Come si fa Ma come Ti avevi rubato La tua madre Infatti Scusi Cos'era Pecchiavi Mamma Vaffanculo Dammi soldi Dammi soldi No No Ma che è quello Faceva Mamma Pi' raffinato Pi' raffinato Eh Pi' raffinato Scusi Mamma Puoi darmi soldi Se no ti pesto No Madre Mi devi dare i soldi Quella droga Sennò Ti mandi Mofiosa A casa Non so Faceva Mamma Esco Faceva Appena Varcava La porta Si metteva Il passamontagna Poi rientrava E faceva Magno 5 Si spiarta Non so Ancora No Fermi 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 Non conquistai Non conquistai E con Questa No Razzata Sei vinta Allo Spawner Infecto Spawner Adesso Spawner Spawner Come on Come on Come on Come on Lua Ma Come on Uno Uno Non è Spawner Cazzo Me ne frega Dai Come on Andiamo Do aspetta Allora Do aspetta Allora Ok Ho responato Ma Un culo Ragazzi Siamo qua Ditero che io Entro Io Vai vai Entra 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 Io torno Su Billy Che cazzo Qua ci sta un altro Io porco Due Infecto Spain Madama Shot Tau Uno che va Da prendere Cina Che è questa frammentazione Questa Questa Morta A culo Questa Morta C'è uno L'imbalano Sì Abbiamo il controllo Abbiamo il controllo dell'obiettivo Bravo Vieni il kit medico Vallo a prenderlo Ecco il kit medico Ok L'obiettivo 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 È stato Neutralizzato Ora Sì La scicca Si fa Si Sì Razz Fai giro Dal largo Bravo Arriva 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 Arrivo Io Provo Proviamo a Tenerli fuori Proviamo a Tenerli fuori Tiviamoli fuori C'è un altro Old Vai a Messal Old Vai a Messal Vai a Messal Distribuitemi Devo L'altro Non stare Dispo Questo Con L'EK Quanto Quanto L'U Old Vai a Messal Tranquile 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 Ok Veloce 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 bravo ragazzi si fanno tutti su bravo si raga e morisci faccia di culo oh ha sponato su ara ok si fa sponato lui questo gioco fa sponato pure vai lo 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 bella vado vado nella posizione oh zambi solo c alfa ce l'ho nato no è mai fatto questo la è capo bella 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 per adesso già andiamo a coprirci oh oh in banana old va in banana va in banana no 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 te lo voglio apposta a me in banana old subito porca trova quanto ti ci vuole sto andando sto io chi è con me in alfa terror dove cazzo stai madonna veloce da me mi stanno pushando ecco il kit medico raccoglilo questo con la k questo con la k faccio ognuno i propri post banana banana metal metal ah finalmente è morto uno luce so in porca troia ma perchè devi rovinare tutto in fondo vai in fondo vai in fondo devi andare in fondo ma sei duro è oh sono qua io da me no è un buio pare porca troia mi devi far incazzare devi andare in fondo metà il metà l'uno mai bella bravo se te non vai in fondo con st'arma di merda porco dio con st'arma di merda non mi metto la cacca pure io banana e vabbè metal vieni si vabbè dio porco ma mi sponato errore fommi spona la sinistra in factor spain studito nel culo questo c'ha di questo c'ha uno di e mouse ma un'ora muore è guanto oh ma che è grazie abbiamo appena conquistato l'obiettivo bravo anche fallito zucci nessuno è nulla che palle razzi metto metto l'ace perché meno li becco un po dalle lunghe con questo cazzo del cvr solo da vicino anche facendo un altro qua adesso eh niente dove cazzo il lace fa 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 la villa eh mi ha fatto sponare oh che lazza qua oh ma che cazzo il lato luca adesso risponiamo dietro stiamo mettendo dietro gli scattoloni eh sì però porco addio oh sto bastardo che mi esce dagli angoli un soldato nemico uno fa vieni una copa vieni una copa vieni una copa vieni una copa vabbè 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 alfa difesa oh quelli famus fa a tutti porco addio quelli famus fa a tutti perché ti vuoi stai sotto il nostro controllo ora ne ho fatto tutti ognuno ha la sua cazzo di posizione c'è uno c'è uscita in c? giù eh no sì sì io stai là sì io sto qui dentro a piena devo cambiare mia arma scusate ma cazzo morto sto pezzo di merda arrivo vaffanculo su moviti in alfa ma che cazzo dai pusha pusha il pancone pusha dai hold però prima santo cielo dai porca miseria anche se eh su ven via madonna eh ma non te posso dire io di pusha e vabbè niente si rax fammi spawn'a dietro il pancone bravo avete fatto? posizioni 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 dai terror rimani qui l'uva va in banana madonna va in banana ma che cazzo va in banana ok sono in banana sono in banana c'è l'alfa da prendere ragazzi e la prendo io non ti preoccupare vai in banana no sto in fatto che spai ma cagato c'è il cazzo dammi veloce spawn arrivano in alfa ecco rimani dietro pancone ecco c'è uno su c guarda guarda banana e banana e vuosa come al solito che m'hanno fatto eeeh infetto spain m'ha fatto e culo diventa rimani dietro alfa dietro alfa mi metto io in banana luca vai fuori con zan luca vieni qua eh cazzo mi hanno pushato in tre non ne ho fatta vai cazzo vai cazzo vai cazzo in banana ma dove cazzo stai andando dove cazzo stai andando no però così non si gioca eh non si gioca così eh io te lo dico subito dove cazzo vai su c oh c'hanno incendiare qua cazzo eh sono su c vai su c luca non c'hanno incendiare sarà meglio pushare la vina si push vai vai mi prometto già mi suona ho di nuovo ucciso che errore sono da sirex no infatto spain set di vita ragazzi non mi va giù non mi va giù no e niente ci l'hanno presa era ovvio sono su bravo mi sento qua vado a me bravo è sotto il nostro controllo ok bravo fatto prevevo a chiudere no no dietro alfa ci sono ci son dietro alfa niente ci son già ecco il kit medico per te vado subito a prendere il kit medico eh vabbè dai bravo ci amballa oh sì 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 sto io in banana voi andate su bisogna prendere fuori però zambe spawnando me no vabbè si può schiudere posso anche ho entrato tutti intatti 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 alla testa diversi buttato la granata guarda guarda che guad no no ucciso oh i pitt aspetto spene culo copri lungo zambi copri lungo c'è su fatta uno due 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 oppure adesso l'hold c'è giocato in me dentro lo stanzino un è morto altra arti dallo stanzino qui a destra bravi tirare canate no dentro un là è ferito arrivo 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 ma questi suprasigiani di merda che non gli entrano ai colpi banana 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 morto il non banana lo so che scena un altro banana metal ma questo qui non metal dentro dentro in alfa è morto arrivano da me arrivano due sì sì arrivano due l'altro me l'avevi fatto raccoglilo un altro in fondo uno di qui ok è morto no vaffanculo carburo di merda osti metal è pieno di cente dai per restare arti sei a posto scontato c andate in bio se ce la fate esagerato oltre il muro mi becca questo in alfa impressionante ma perché loro sono sei scuse ma che quanti ce n'è dietro b non sono più abituato già ne serve privati che non so quanto è ucciso terrore corre 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 copri di là copri di là madonna ha dato due po' madonna questi qui di bag che le cose non ci riesco no dai chissà che è vinto eh torridoio bella torridoio sì vabbè sono dietro alfa dai questi infettus madonna non ci può trepare questa cazzo dai cappa di merda c'è terreno c'è un altro mob che asfaltato morto ma scusate erano torrissato cazzo ce ne avevo due infatti uspe non muore ora mi sa che la m6 non prendi colpi sì vabbè vabbè e tu spain razzi mamma mia di lì di o voglio bug vabbè Mamma puttana Guarda tanto si è vinto Non è giocato di merda Non importa giocato di merda Te Luca, tu ti vuoi una bella rimproverata Perché te stai giocando di merda Perché non segui le nostre indicazioni Perché se no ti si dice stai in banana Te non puoi andare a pushare il dio buono La B, devi stare in banana Perché se te pushi, perché vuoi fare le kill Perché sei negativo, non c'è ne venga un cazzo Devi stare lì fisso Lì fisso Fisso lì fisso Sei perso Sei perso molte volte l'alfa Perché non c'era old style in banana Non c'era E quindi sei perso l'alfa diverse volte Ma mi ramenevano sempre due di vita questi qua Ma due di vita, se sei scanzo non è colpa nostra Stai mirato, stai posizionato E vedrai che ti vanno giù E non ho capito, dio buono Oh C'era tipo il fact to Spain Lo so che non moriva, era un figlio di puttana Di quelli abbastanza onnessonatini Però gli saldava in due, io tipo il drago rosso in due E moriva prima o poi O gli terrori E' uguale ma te stai posizionato E vedrai ci morirà E stop Io devo fare la foto a Berto che così si è muta quel nabo di merda Ma se comunque c'è un'altra volta Ma anzi c'è un'altra volta Prigione Vabbè fai punteggi Magari punteggio Non credo In conquista In conquista Ma se fa un'altra volta Cosa qui? Eh no Devi cambiare Non so come Io Facciamo andate al ritorno Va che telefono Due volte si fa Facciamo due volte Su BF1 o se? Oh io vado in alfa eh Posizioni classi dai Luca Devi stare Devi stare qua Ascoltate l'obiettivo Meta nemmeno Mi avanti Mi serve Gerson Attaccavate tu zel No Alla te Error Ehi Ah c'è un'altra giu E tu zel Attaccavai Uno lo fa Uno lo fa Il server è corrigo Attaccavate tu zel Sì Mettetemi nella mia posizione E tu zel Attaccavai Vai 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 Mettetemi nella mia posizione Attenzione L'obiettivo Charlie E' stato neutralizzato Ma che fa push a 1 Abbiamo bene conquistato L'obiettivo Charlie Devi scontargli di tutti eh Arrivano Arrivano a banana eh Non è capito In fondo Fanni giro largo Questi Tutti Tutti Cirargi Tutti Cirargi Magonna E palle Che palle Oltre Ti Devo dire Ceppoli nel capo Devi stare in fondo Non puoi stare lì Ti ammazzano Ti potevi stare in fondo E vabbè Sei perso l'alfa Per colpa di Old Style Arena Oh Oh F***a sono stupidi Che vengono fuori Raga Vengono in metà Alla C***o Morte anche questo Venite Madonna Copritici Copritici Chi ha quello Succino Nessuno Succino Tutti nel mezzo Come Debabby Adesso Succino Old Voglio andare in fondo In banana Voglio andare in fondo Oh Oh sto qua No Devi stare in fondo Oh Madonna Sì L'ho visto Voleva entrare Metal Metal Fatto E non altro Vieni 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 Faccia di c***o Arriva la banana Che sto guardando Non si affaccia Ancora Da me Spotta Tutti Non c'è nessuno Che consiglio a spottare Che ci faccio Eccola Qua Entra Entra La spottura Tutti Fuori Che metal Vai da silo Luca Vai da silo No M'ha fatto Infectus Di metal 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 Entra in alfa Sì Mi sono preso Gli spino in re Sì Sono morto Non ho colpi Raga Non ho niente Guardi tutti morti C Vai subito Vai subito Sponate 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 KV KV Subiso KV 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 Vabbè torno su alfa Va Meglio Ti dobbiamo qua morto rai si puscia vai posizioni ritorno di nuovo l'aveva fatto dietro c maia la puntata ci arrivano da c dietro al fa arrivando a c razzi dietro o mai solo uno è morto un altro che palle o che palle madonna che sto dito nel culo tutto ciò per colpa di all the style arena che non ha coperto il la prima la prima ondata una guardia c'era che c'era di troppo c'era di troppo e dietro c'è sto in factus bank ma che cazzo si deve andare fuori raga stanno venendo da dietro da dietro lì vita terrore morto dalla lupa si da merio tutti da me si tiene il più possibile no non ce l'ho fatta sto stronzo è quello lì non ci vuole morire io e old stai zitto dio bono questi qua c'hanno un mouse porto dio like a farla controlla come se non so cosa porto dio dai raga per favore andati sono subì razzi questo ma presto non so da dove va bene fortissimo se io stai capo del cazzo mamma mia sua e k arrivo anche sul cazzo di merda con quel cazzo di evoluzione si va lo fricchi nel culo errore guarda non hai banana no tra posti puscia dal tunnel di madonna da dentro fatto ora no si sto in lega vabbè vabbè nulla a fare poi a me non mi ci stava sulla roccia lì e non mi ci stava non so perché mi cadeva sempre di sotto bene vado a matto no da banana madonna da banane sta pushato ma chi cazzo c'era un banana ma sempre in coppia sti bambini qua ecco la luce no dai si abbassa mentre mi spara ma sempre in spain madonna è sciottone del cazzo mamma mia ecco sempre sempre quando è una cosa incredibile tutti sotto sono una figa di merda cazzo cazzo copriamo chiudiamoli fuori vabbè non si fa per i triple cap è vero non giusto dietro c mi fuggono a me ma stiamo partendo qui ho un muoia ragazzi ho un caricatore su ognuno non muoia nessuno vabbè non muoia non muoia infatti lasciamo di là non muoia non muoia non muoia non muoia c'è verso e sta gente non mi non mi ci crepa non mi ci crepa ragazzi io eh che l'ho detto metto metto la cvr metto la cvr questi sono sono da me rialzo cazzo in seve robe più potenti va a capare c'è questo tipo un controllo marzo 1 3 cazzo uno solo dove è quello lì che era ok capo io no siamo fuori che ho voglia qui arriva in alfa arriva in alfa andiamo a meno che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo oiai puoi apri banana puoi apri banana merda un ciclo un ciclo è morto che c'è rimasto su bf attimo 0 non avrà più intatti lamentarmi per portare 11 di vita 11 di vita rimangono in banana ragazzi in banana in banana non so che gira ha fatto punteggiore di merda sto facendo ragazzo se non ando fuori mi shotta no? abbiamo perso l'obiettivo l'alfa c**o guarda dei terror ma anche uscito ma ragazzi non devi che fai trovare assistito doppia si si no che cazzo è ok difendiamo b difendiamo b fermi io guardo banana sennò qua continuano a f**tercele tutte guardate da c io guardo banana ragazzi ripeto ecco uno un banana fa tutti i saltelli da figlio di p*****a mi serve uno che mi aiuta a passare c d'immagine cosa? cosa? bff mh hanno fatto la banana razzi no vbè Ce ne... io col terrore devo andar biscuits crisi da col terrore corpo di... se non vanno adderi ma almeno sopra bravo cazzo sono tutti madonna mirati assurdi o comunque lo spettatore lì non mi convince razzi lo spettatore non mi lo spettatore non mi convince razzi non c'è l'idea non c'è l'idea e vabbè nulla madonna sti brasiliani dove si è sotto sotto b uno che copre fuori c'è 9 di vita ma lasciava rendete molto 9 di vita non mi hanno pushato un'altra volta in b mamma mia e pallio che palle madonna che è sciottata vabbè è rittato nella cacce nella cacce nella cacce nella cacce copritevi in banana ce n'è uno morti in banana ok morto vabbè oh io con il famas ora ma ti sai com'è tu padonna ma non cazzo no sti vabbè ti sai grosso schizzo 3 di vita cioè io bove la verde 3 di vita cioè non mi vanno giù con nulla non mi vanno giù con nulla ragazzi boh sarai serve non lo so ma che cazzo se ne frega abbiamo vinto madonna è la stessa storia mia di prima ma che cazzo c'era uno e l'evento tre con altri cosa ho fatto bene cazzo sono morti tutti perché il famas questo col famas ora gli smado un messaggio zambi su c terrore banana non pushate e ormai e nessuno si non push regali abbiamo appena perso lo più caro carli che che cappa ma che da dietro da dietro vabbè è assurdo ma poi come si shottano madonna mia razza è una cosa assurda ma è sempre anche nostro ma è il dio buono cazzo è e anche europeo sicuriamo ci sentiamo il momento di lo praticiamo sta arrivando è uno grazie grazie viva per la e capo è sotto madonna di resto di resto vai andate su andate su se riuscite a spawnare sto andando ce n'è no due di vita ragà ma questo qui col famas io lo volete dire che non lo puoi usare sto facoltando anche io ho fatto il kit quindi ho preso da fuori è restato quello succede ma è mirato vabbè grazie a me mi sciocca i due colpi veramente non so cosa fare sono inutile madonna che cazzo due colpi mi tirano è impressionante arrivo terror non chiamano male mi schiava bravo coprite fuori ragazzi non facciamo di entrare non facciamo di entrare basi ecco 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 andate su c andate fuori andate fuori lo sciamballa del cazzo non è da un micro cazzo è buono la gamma questo colpa ma aspetta vai cocco pro alfa io sì anch'io copri banana sognato di banana da quando questo ha messo il famoso more un more lo stronzo prende provate a prenderci ho dei scale scale ma scale scale ok stai su e mi scala mira scale please provate la mano ti mi coca terrore terrore vieni indietro non ti sa terrore non ti sa terrore culo vieni distendere fanculo madonna 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 sti cazzo di esbo come cazzo sciottano c'era un altro c'era un altro ht questo yuki mamma mia ancora alfa c'era un altro da scala l tenete voi banana 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 ma non c'è la maniera ma ragazzi tui dietro va a cacare vai affanculo fuci a testa di razzo copriamo raga sta sempre lì banana ragazzi non è coperto non è coperta ci sto io no perfetto ma come rischiera si 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 se me lo fa a parabolo bello non c'è di cazzo vuoi che vuoi camperare io campero non c'è problemi non pushare guarda è l'ultimo partito sconte su bs walk su bf walk l'ultima è l'ultima su bs su bs si 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 guarda che è sciottato si 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 no 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 ma pushò l'altro lo sapevo lo faceva apposta arrestarlo 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 no tu non arrestare un cazzo vado da me non c'è non c'è non c'è non c'è prendere via ma a moris va a moris va a moris sconti madonna che è stato lì per questo qua mamma mia è chiuso nelle casette e comunque abbiamo vinto questa volta tre fire puro tre fire puro vado a te mette il pacchetto vaffanculo se arrivi è positivo yeee no cacare ragazzi fracostiti c'è io un po' è assurdo c'hanno dema house questi mi sembrano l'inex in versione brasiliani mamma mia ma non mi credevi io te lo dicevo non è impossibile che questi quasi ti danno certe sciocciate assurde da lontano c'erano da lontano sono incontenibili da vicino lì fai qualcosa ma sono io da lontano tutti e non trovo problema nel gun fact rega anch'io a me sicuramente quando sono avvantaggiati sia di posizione che di vita basta dai io ho la mira ce l'abbiamo raga io ho fatto 7 la mira ce l'abbiamo migliora noi a voi non vi shottano vabbè c'avevano esso talmente più bugatti esti diobono c'avevano nessuno diobono dei negri madonna a voi andate diobono a venti chilometri secondo anzi minuto santo cielo porca miseria madonna un'altra volta in questa prigione non ti cazzo no 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 un'altra volta prigione no perchè tu perchè dominio fanno due volte non è come bf1 luca c'è due volte prigione qua aspetta uno fisso uno fisso raga uno fisso rimanevano a me c'è assurdo uno due di vita fisso poi quello li ha cominciato a mettere camas oh si raga adesso shanghai adesso shanghai aspetta abbandono e riavvio il server fermo abbandono e riavvio il server shanghai è morta bisogna tenere bisogna tenere la bandiera quella sulla strada se teniamo sulla strada e quella lascia gliela dentro il fabbricato dentro il negozio lì però spiegare non è facile no a questo punto se riesco a pigliata lontano mi metto le m4 16 non cazzo in un modo o nell'altro di uno morì cioè non è che forse non rimanebili anzi tolgo lo facciamo così vantaggiati di posizione tolgo questa non è che c'è tanta storia c'è tanti posizioni giusto muoiono si ma c'è riavviato il server si è riavviato si 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 ok perfetto ripari entro eh mi mancava sempre mi mancava sempre l'ultima raffica per morire ragazzi se vinciamo questa buona fine questa si queste si fanno due macchine vabbè in teoria si vince questa e si va a casa in caso vabbè se un po' se ne vuoi farci due shanghai sono usciti come sono usciti io voglio andare a vedere le tre ma sono usciti vado ho questa c'è shanghai ma che che ha dato che ne ho perso due mappe i brasilieri io ora ci scrivo ma fucking mouse guys gli scrivo suck my balls noob gli scrivo cosi nel loro gruppo shanghai ha bustato sta che noi abbiamo vinto e loro hanno perso why do you quit why do you quit raga oh ma può essere che noi non facciamo una cv sub f4 tipo da un anno e mezzo barato abbiamo vinto abbiamo finito se fatti si ma infatti nonostante questi si siano messi il mouse le stronzate le connessioni bugate brasiliane cioè io ho detto vabbè tanto perdiamo subito ci fanno triple capo dura poco no vabbè impossibile c'è tanto che io sia andato in negativo là perché veramente ho sbagliato a giocare mi ho fatto figliata al panico e quelle due o tre kill lì ma 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 ne manco quello doveva succedere cioè ma il problema è che tipo li pusciavi quando non li dove pusciare eh mi sono fatto figliata al panico ho fatto un paio di cazzo è tutta una roba tattica cioè perché non mi andavano giù non mi andavano giù e mi facevano incazzare mi diceva ma com'è che questo mi rimane sempre con venti di vita oh ma che cazzo è volevo capir volevo capir volevo capir hanno cominciato a morire hozeldato volutò clicci il attorno notame usted con Grazie a tutti